L'altra faccia di Arezzo ci presenta una emergenza sociale da fronteggiare in maniera decisa e urgente. Il Comune ha i soldi per poterlo fare come ha confermato Francesco Romizzi di Arezzo 2020. 13 milioni di euro come vanno disponibili nelle casse del Comune. Perché quei soldi sono fermi e non vengono utilizzati in questo momento per sostenere il disagio sociale, le difficoltà sociali di migliaia e migliaia di famiglie aretine? Perché? Vogliamo una risposta da Ghinelli e facciamo delle proposte su come poterle utilizzare. I dati elencati nel corso di una conferenza stampa promossa dai gruppi PD, Arezzo in Comune e 5 Stelle saranno oggetto di un atto di indirizzo che verrà presentato in Consiglio Comunale. Chiediamo all'amministrazione comunale di creare questo fondo anticrisi legato al caro energia e al caro bollette. Come diceva il Consiglio Romizzi ci sono fondi che sono lì fermi che l'amministrazione non utilizza e quindi ci sembra il caso che al di là di qualche azione sporadica che ha messo in campo l'amministrazione comunale ci sia necessario creare questo fondo strutturato che dia risposte più complete ai cittadini, alle imprese e alle associazioni. Uno degli aspetti più clamorosi resta quello dell'assenza di pannelli solari nelle case popolari dove sono in tanti a rischio sfratto. Purtroppo non ce ne sono. Io ricordo all'amministrazione che faccia un giro nelle proprie case popolari e vedere come poter risolvere il problema energetico e si renderanno conto che non c'è neanche un pannello fotovoltaico. Penso che sarebbe l'ora di darsi una mossa semplicemente. Vediamo una percentuale, 22% di abbandono scolastico. Siamo al primo posto in Italia con Palermo. Penso che anche su questo l'amministrazione debba fare un focus e cercare di dare risposte concrete.